buongiorno anzi buonasera adesso vi faccio vedere una cosa siamo un po in alta montagna è allora eccolo qua eccolo lì e poi adesso non si vede tanto e poi tutto questo ovviamente in verticale non rende molto come sempre però non è malvagio ecco godetevi un po di montagna va voi che siete in città e poi qui hanno già iniziato a montare l'albero di natale che tra un po sarà addobbato con tutte le luci per natale ovviamente qui invece un negozio è tutto per gli amanti del vino e degli alcolici pieno di alcolici di vini di tutte le marche forme colori dimensioni prezzi ovviamente perché i prezzi qua non è che scherzano mica tanto ecco non è che scherzano mica tanto volevo vedere se c'era un prezzo ma i prezzi ah sì tipo grappa aromatizzata 13 euro vabbè ma quello più o meno ci può stare bombardino valdo sano siamo a 12 e 80 e via discorrendo e poi là dietro tutto pieno di vini tutto qua un negozio di alcolici in pratica sempre nel negozio di alcolici hanno anche una parte dedicata ai dolcetti cioccolatini e cose varie e quello che ho visto qua subito mi ha colpito questo tutto cioccolato e poi qui c'è una specie di calendario dell'avvento con tutti i giorni della settimana no del mese di natale con natale 24 rosso cioccolatini caramelle cioccolatini con liquori liquori con cioccolatini caramelle con cioccolatini cioccolatini con caramelle